Stai per scoprire il segreto inconfessabile che potrebbe cambiare tutto al Grande Fratello? Cosa nasconde davvero Garibaldi nei confronti di Anita? E come reagirà la casa quando il velo sarà finalmente sollevato? In questa puntata di Onda Virale vi portiamo all'interno della casa del Grande Fratello e di quella che si preannuncia essere una puntata davvero infuocata! Resta con noi per scoprire tutti i segreti e vivere insieme un'esperienza davvero indimenticabile! Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere tutti i nostri prossimi aggiornamenti su questa e altre notizie! Preparati a vivere un'esperienza televisiva senza precedenti con la quarantesima puntata del Grande Fratello il reality che tiene tutti incollati allo schermo! Con Alfonso Signorini alla guida, affiancato dalla penetrante Cesara Buonamici e dalla carismatica Rebecca Staffelli, pronta a catturare l'essenza del pubblico da casa la serata promette scintille e rivelazioni sconvolgenti la casa più spiata d'Italia si prepara a vivere momenti di alta tensione e sorprese commoventi l'amicizia tra Giuseppe e Anita è sull'orlo di una crisi con la gelosia di lui che mette a dura prova i legami ma c'è di più i sospetti serpeggiano tra gli inquilini Garibaldi nasconde forse un segreto inconfessabile? e poi il riavvicinamento inaspettato tra il bidello e Beatrice un colpo di scena che nessuno aveva previsto ma non è tutto preparate i fazzoletti perché Paolo vivrà un momento indimenticabile riabbracciando l'amata mamma Sandra in una scena che promette di rubare il cuore di milioni di spettatori e Alessio? un incontro con il papà Domenico che si preannuncia ricco di emozioni e risate in puro stile Grande Fratello Massimiliano, il nostro attore dal cuore impavido si trova ancora una volta al centro della tempesta facendo fronte alle nomination con una passione che sfocia in veri e propri scontri la casa è un vulcano pronto a eruttare e nessuno può prevedere cosa accadrà dopo e infine il momento che tutti attendono con ansia il televoto Alessio, Grecia, Massimiliano, Marco, Federico, Paolo e Simona sono sul filo del rasoio Chi riuscirà a conquistare il pubblico e garantirsi un altro giorno nella casa più famosa d'Italia? E ora vogliamo sentire la tua voce Chi merita di restare nella casa e chi dovrebbe fare le valigie alla prossima nomination? Le tue opinioni contano e noi siamo qui per ascoltarle tutte Scendi nei commenti qui sotto e unisciti alla nostra grande famiglia di appassionati del Grande Fratello Non dimenticare di supportarci grazie al tuo like al video Te ne siamo grati! Non perderti questa serata di emozioni forti colpi di scena e come sempre tanto gossip da commentare fino all'alba Grazie per averci seguito Ti aspettiamo al prossimo video!